Far conoscere l'Abruzzo anche attraverso la street art o arte di strada, valorizzando i piccoli e grandi comuni e favorendo lo sviluppo e la diffusione delle opere che rappresentano una delle maggiori espressioni di arte contemporanea, che sono capaci di attrarre turisti e generare decoro urbano attraverso il culto del bello e dell'arte. L'obiettivo della legge è approvata all'unanimità dal Consiglio regionale su proposta del Movimento 5 Stelle. Primo firmatario il consigliere Pietro Smargiassi, il quale afferma che la Regione riconoscerà fondi economici che sono finalizzati a favorire la realizzazione di opere nei piccoli borghi d'Abruzzo, che vedranno incrementare il numero di visitatori, ma anche nei comuni più grandi, in un'ottica di riqualificazione di alcune periferie in cui i palazzi popolari subiscono gli effetti del tempo e dell'incuria. Riqualificare, valorizzare, diffondere. Riqualificare le nostre periferie, che sono non sempre belle da vedere, attraverso una nuova forma d'arte immediata, veloce, economica, aperta e libera per tutti. Quella che è la street art, che vediamo spesso sui muri delle nostre città, troppo spesso gli si dà anche poco valore. In realtà sono opere meravigliose, di importanza anche internazionale. Immaginiamo un nome su tutti, Bansky, una sua opera in questo momento è una delle più ricercate, appare all'improvviso un'artista di cui non conosciamo nemmeno il nome. Valorizzare, valorizzare il nostro territorio. Le Ielli, la provincia dell'Aquila, è un esempio. Attraverso delle opere su delle palazzine, delle case, che magari non avrebbero nemmeno tutto questo grande valore, perché ricostruite dopo il terremoto dei primi del Novecento, quindi non un vero contesto storico di quel paese, attraverso questa idea geniale di questo paese, si è riusciti a portare un numero incredibile di turisti a conoscere quel paesino, a passeggiare dentro quel paese e creare una vera economia di ristoranti, pub, ricettività, piccoli alberghi. Tutto ciò che è possibile fare all'interno di un piccolo paese che senza la street art sarebbe rimasto nell'anonimato del nostro entroterra. Questo potrebbe essere mutato all'interno della nostra regione, in tanti piccoli paesi che sono meravigliosi da vedere. Infine, quella di diffondere. All'interno di questa norma abbiamo previsto un fondo che la regione Abruzzo stanzia per poter fare delle pubblicazioni una volta all'anno, dove censire tutte queste opere e creare un vero percorso per il turista che voglia girare la nostra terra, approfittando di queste grandi opere, meravigliose opere che appaiono all'interno dei nostri paesi.